E ciao a tutti chiunque come state? Oggi siamo in questo nuovo FNAF News perché ci sono le news più grandi fino ad ora del film di FNAF Quali sono? Il trailer! Il cavolo di trailer! Siamo qui davanti al trailer, come potete ben notare ovviamente vi lascio il link in descrizione Trailer pubblicato dal canale della Universal, non ho ancora visto niente Adesso guardiamo sto trailer e vediamo cosa succede Speriamo che i volumi siano buoni Ah, attenzione Ovviamente sarà in inglese, quindi vi lascerò qua dei sottotitoli Ok, bellini Yo Yo Le telecamere Queste, ma, fermi tutti Vabbè poi le riguardiamo dopo Yo, ma che cavolo Ma Oh no Inizio The Pit Ok, però questo, no, questo fa un po' ridere Ok, già finito Allora, però le cose ci sono Il contenuto c'è Allora, questa è una persona Che, vabbè, fa la pubblicità del Freddy Fazbear Pizza Però non c'è niente interessante Qua ci sono gli animatronic E Sono interessanti Sono interessanti Sembrano un po' I, tipo, i cosplay I cosplay di alcuni cosplayer Quelli bravi E adesso che ci sto pensando C'è Freddy qua che sta cantando Quindi questa è la sua seconda voce canonica Poi il Freddy Fazbear Pizza è chiuso Entra Michael E qua vediamo un attimo Bonnie Fermi tutti Che sembra però più plasticoso rispetto a prima Sembra molto più plasticoso Vediamo com'era prima Forse era l'effetto dello statico No, forse è l'effetto dello statico C'è anche Freddy Vediamo che ci sono vari cavi qua dietro Il logo che si accende è molto bello Le telecamere Vediamo un po' le telecamere Questo è fuori Sembra di nuovo fuori Ancora fuori Sono soprattutto di fuori Basta C'è il poster Signori, il poster E attenzione però Perché c'è un dettaglio importante Se vi ricordate La chitarra di Bonnie Era protetta da copyright Quindi adesso hanno ricreato il poster Però con la chitarra di Bonnie diversa Però i modelli sono gli stessi Cioè i modelli sono quelli di Del vecchio FNAF 1 E sono un po' diversi però Da questi Cioè comunque un po' di differenze ci sono Quindi secondo me Sarebbe stato meglio Proprio rifarlo da zero Però vabbè Vediamo Vediamo gli animatori Un po' meglio Le proporzioni di Chica Sono un po' strane C'è la testa Sembra grande Quanto il corpo E il cupcake È molto più plasticoso Di quanto Pensassi Michael E qua compariva Eccolo qua Fermi tutti Non so Mi fa un po' ridere Sinceramente Non dovrebbe darmi Questo effetto Però mi fa molto ridere Freddi Messo così Tra l'altro Perché ha gli occhi verdi Sembrano Sembra Abbia gli occhi verdi Ora qua Qua io credo Credo Ma credo Che sia una tuta Springlock O qualcosa di simile Perché qua ci sono degli occhi Però io non credo Che Questa possa essere L'interno di una tuta Vediamo Foxy Signori c'è Foxy No Prima L'ombra di Foxy Una bambina che forse non conosciamo Freddi con gli occhi rossi Questa qui Forse è Vanessa Questa Sì forse è Vanessa Qua ci sono i bambini Uccisi E abbiamo Chica Penso Freddi Non ne ho idea Bonnie sicuramente Perché ha Le orecchie Adesso li vediamo un po' meglio Allora Questo qui Ha un cappello bianco Ed è vestito di giallo Quindi mi fa pensare a Golden Freddy Questo qui Questo qui è tutto marrone Quindi immagino Freddy L'ultimo che rimane E questo qua Sarà Foxy Qui c'è il nostro Amatissimo Shaggy Quindi William Afton In questo caso Michael che ha Una guardia notturna Che viene uccisa Foxy I piedi di Foxy Si muove molto strano Questo piede Si muove in un modo Molto strano E' una bambina Che si immerge Nelle palline Insieme ad altri bambini Forse questo è Foxy Questo è Foxy Questo qui è Foxy Beh Oltre al logo Qua vediamo Tutti gli animatronici Con gli occhi rossi Chica no No Chica c'era Non ci fanno vedere Chica Chica non esiste Per il mondo Non esiste Chica Allora Sono fatti bene C'è impegno Questo è Certo Però non lo so Mi fanno ridere Guardalo qua Come fa a non ridere C'è con gli occhi rossi Con questa posa Ma Ti fa troppo ridere Ma anche Bonnie Ma che stanno facendo Voglio rivedere un attimo Foxy C'è anche Foxy Fa ridere Un po' meno Un po' meno Perché si vede di meno Però fa ridere Oh oh Aspetta Il peluche di Foxy Pubblicità alla Funko Ok Allora Le proporzioni di queste animatroniche Però sono Decisamente strane C'è guardate qua C'è la testa Che è più o meno grande Quanto il corpo La pizzeria è bellissima Mi piace un sacco Però scusa Domanda Com'è possibile Che gli animatroniche Sono in perfetto stato Quando Addirittura fuori Ci sono I rampicanti Che hanno preso L'insegna C'è anche Gli animatroniche Dovrebbero essere un po' Un po' danneggiati Io questa parte Non ho capito Ovviamente Non si capisce niente In FNAF Questa cosa Non esiste O è una scooping room Un po' particolare Una scooping suit Oppure Non ne ho idea Non so Allora Sicuramente È fatto bene C'è l'ambientazione Mi piacciono molto Avrei qualcosa Da ridire Sui animatroniche Non lo so Le proporzioni Sono un po' strane Mi sembra E poi Non fanno paura Per niente Dai Ora Tu vedi Un robot Un qualcosa di strano Che ti guarda in questo modo Con questi occhi rossi Cioè il problema Sono gli occhi rossi Soprattutto Non vi Non fa ridere Fa ridere Cioè cosa Impossessato dal diavolo Non fa ridere Bonnie ancora di più Bonnie fa straridere Perché non Allora con Freddy In questa scena Più o meno va bene Perché è molto Abbandonato a se stesso Cioè si vede Tipo che Tutto Accasciato Un po' Insomma Insomma Rotto Bonnie però Bonnie non si può guardare Bonnie fa troppo ridere Allora io qui Ho dei filtri pazzi Per YouTube Vediamo se in questo modo Si vede qualcosa di più Chica è strana Chica è una strana cucitura qua Molto strana Ma anche in questa scena Dai Fa ridere Tu ti giri E vedi sto coso così Comunque si Le proporzioni sono strane Freddy non ha Una pancia così piccola Vediamo un po' meglio il piede Molto fnafuno Ci sta Ah qua ci sono gli ingranaggi Qua ci sono gli ingranaggi veri A prezzo Beh anche riguardandolo Molto più luminoso Non c'è moltissimo Da dire in più Non so Le ambientazioni sono belle Per gli animatroni che sono un po' scettico Fanno ridere Fanno ridere A quanto pare è stato valutato Come da 13 anni in su Infatti Molti erano scontenti di questo Volevano un film più Più da adulti E a sto punto forse Anche io sono d'accordo Più che altro per gli animatroni che C'è tutto molto luminoso E stranamente C'è tanta luce Ed è strano Però il film di fnaf Cioè al contrario dovrebbe essere Per esempio Dov'è questa scena C'è un sacco di luce Fnaf di solito Si è sempre basato sul Vedo non vedo E in questo caso È solo vedo Quindi forse anche per questo Fa ridere O almeno a me fa ridere Proviamo Vediamo Abbassiamo la luminosità Ecco vedi che già Vedi che già È un po' diverso Chiaramente Non è adatto ad un film Perché in questo caso Perché c'è troppo buio Però guardate già freddi Cioè è diverso Vederlo così E da così Cioè così No Così già È un po' meglio Quindi sì Mi sa che Avrebbe funzionato Se fosse stato Più scuro Più buio Ma chissà Magari hanno preso Giusto queste scene E poi in realtà Sarà più buio Spero Il trailer è finito Per ora non abbiamo Nient'altro Però sappiamo Che uscirà il 27 ottobre Quindi tra poco Alla fine Quindi scrivetemi La vostra Qui sotto nei commenti Ditemi cosa ne pensate Cosa Come ritenete Gli animatronic O in generale Tutti i resti L'ambientazione E tutto quanto E noi ci rivediamo Ad un prossimo video E ciao Un minuto No Sì 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 Connexion terminate Sì 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 Sì